People change but not us And we just chillin, kickin' a kiss by the sun Could be sold to the skin and no more through And I know she got the good vibes when Seasons change but we're the same Even if I lost all my money Does it remind me of my money And I don't need to speak a single word Cause you got me holding, holding Ben tornati in questa nuova serie di episodi Dedicati al BJJ per principianti Avevo già fatto tanti anni fa Una serie di video chiamata BJJ for beginners Vi li lascio qui in sovraimpressione Quindi andatevi a guardare perché erano molto interessanti Riprendiamo con questa rubrica dedicata ai principianti Quindi farò vedere una piccola sequenza Molto semplice Con alcuni dettagli importanti da capire Se ci si vuole avvicinare al mondo del Brazilian Jiu Jitsu O comunque della lotta con kimono Allora, vediamo una prima opzione Facciamo una proiezione da in piedi abbastanza semplice Con una piccola variante Allora, io per proiettare Devo andare ad afferrare il kimono dell'avversario Lei probabilmente una volta arrivati in lotta Farà la stessa cosa con me Pertanto, una volta che siamo in distanza Quindi la lotta, lo scontro è già partito Quando lei allungherà il braccio verso di me Per afferrare il mio kimono Io ho due opzioni O ingaggio anch'io con le prese Oppure, come in questo caso, decido di strappare la presa Quindi afferrerò il suo polso e il suo kimono Strapperò la sua presa Porterò il suo braccio lateralmente Mentre io eseguo un passo in avanti Da questa posizione, uncino, quindi aggancio con questo tipo di presa il suo bacino Posizionerò adesso il mio piede dietro il suo piede E da qui, sedendomi, vado ad esempio in proiezione Per poi portarmi sopra di lei in posizione di monta Da qui dovremo andare ad attaccare per finalizzare E vediamo la proiezione Lei ha afferrato il kimono Io decido di strappare la presa Uscire di lato E aderire a lei Da qui mi siedo E salvo questo lato Prendendo una posizione per me vantaggiosa Da qui proseguirò con l'attacco In questo caso deciderò di fare una finalizzazione semplice Portando due mani su di un braccio In modo da portare il suo braccio a terra Il mio gomito lo posiziono a fianco del suo viso Il suo braccio deve rimanere con un angolo di 90 gradi A questo punto farò passare il mio polso La mia mano sotto il suo gomito Fino ad arrivare ad afferrare il mio polso Adesso da qui dovrò con il mio gomito Elevare il suo gomito fino a portare la sua spalla in leva Mentre il suo gomito viene portato verso l'alto Tendenzialmente il suo polso dovrà invertire la posizione Quindi eseguire questo tipo di rotazione Quindi eravamo arrivati qui Decido di portare due mani Porto a terra Giù con il gomito Passo sotto E sollevo per finalizzare Da qui parte la lotta Io afferro il suo kimono Lei decide di strappare la presa Portarsi lateralmente rispetto a me Portare il suo piede dietro il mio E da qui salire sopra di me Arrivati a questo punto Dovrà attaccare il mio braccio Quindi due mani su un braccio Andrà giù Ed eseguirà leva alla spalla Abbiamo una seconda opzione Da qui Se l'atleta che subisce l'azione Difende spingendo Quindi da qui Allontano e stendo le mie braccia Lei potrà aderire Controllando il mio braccio E finalizzandomi con Leva al gomito Quindi io afferro Lei strappa Giù Attacca subito Uno Seconda opzione Quando lei cerca di attaccare Io spingo via Ok E vado ad eseguire Arlock Vediamola ancora una volta Stando di prospettiva Uno Strappo Giù Una variante Al posto di Andare a strappare la presa Per eseguire il passaggio dietro Potrebbe essere Che quando io mi avvicino Verso di lei Lei intercetta Facendo arm drag Quindi va a ferrare Con la sua mano Il mio gomito Il mio tricipite E mentre traziona il mio braccio Lei si posiziona Come prima Lateralmente O dietro di me Quindi O afferro E strappa Oppure Intercetta E va dietro Da qui Trattiene il bacino Si posiziona bene Piantata A pavimento Controllando così Il mio corpo La sua testa Deve essere sempre Aderente Al mio corpo Alla mia schiena Vediamo l'azione fluida Completandola Fino a terra Abbiamo così terminato Per oggi La nostra piccola sequenza Abbiamo volutamente Fatto una piccola combinazione Con un inizio E una fine Cercando di dare Solamente quelli che erano un po' I dettagli essenziali Ma senza entrare Troppo nel sottile Proprio perché Questi video Sono rivolti A un'utenza Base Quindi Chi vuole avvicinarsi Da zero Al brasilian jiu jitsu O comunque Le discipline di lotta Con il kimono Quindi Troppi dettagli In una volta sola Sicuramente Creerebbero solamente Confusione Non mi resta che Augurarvi un buon allenamento Provate queste sequenze E se avete bisogno di qualsiasi indicazione In più rispetto ai dettagli Magari spiegati in video Lasciatemi un commento qui sotto Sarà mia premura Rispondervi al più presto Mi raccomando Se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi al canale E cliccate la campanella Per attivare tutte le notifiche Ciao a tutti E buon allenamento Fol Teachers . . . . . . Grazie a tutti